Nell'Iliade è descritta la società di quel tempo, chiamata Società America. Gli oroi greci consideravano l'onore un valore importantissimo. Per loro non era solo qualcosa di astratto. Conservare il proprio onore significava combattere, essere rispettati a tutti, ricevere gloria e un meritato premio. Ecco perché quando io, Agamennone, fui costretto dagli dèi a riconsegnare Cliseide, la mia schiavo, un prezioso bottino di guerra. E per non rimanerne a mani vuote, chiesi in cambio Briseide, la schiavo di Achille. Ma per me, l'eroe greco Achille, questa è un'ingiustizia. Anch'io ho combattuto valorosamente e merito il mio premio. Se non lo vuoi capire, Agamennone, me ne tornerò a Ftia e non combatterò più. Fermati, Achille! Non movimenti, anzi. Non movimenti, anzi. Non movimenti